Marco Oliva di Bennett, la gestione della complessità impiantistica, facili soluzioni pronte all'uso o costruire un team di persone motivate? La gestione degli impianti non è senz'altro semplice e però è chiaramente necessario trovare per diciamo un'economia del proprio lavoro una modalità per semplificarla questa gestione. Non è semplice perché gli impianti sono sempre più articolati e permettono sempre più elevate prestazioni, efficienza e così via ma sono densi di tecnologia quindi per approfondire è necessario avere elevata specialità. La nostra organizzazione si basa sostanzialmente su due fondamenta. La prima è quella che concerne una pianificazione di medio-lungo termine secondo la quale rinnovare l'impiantistica a fine della vita utile a partire dalle apparecchiature più energivore. Quindi l'impiantistica si rinnova non quando non funziona più ma si monitora nel tempo per capire quando conviene cambiarla quindi quando è più economico investire per risparmiare poi nella bolletta energetica e con questo risparmio diciamo pagarsi la sostituzione. Il secondo pilastro su cui ci basiamo questo riguarda il breve termine è la gestione degli impianti tramite una control room che abbiamo al nostro interno. Control room dove fanno capo tutti gli impianti per impostare, verificare il funzionamento degli impianti e anche i consumi energetici degli stessi per verificare se sono questi consumi in linea con le attese e quando sono superiori questi consumi intervenire, capire dove questa deviazione avviene e intervenire per risolvere. Sicuramente c'è bisogno per gestire di tutto ciò di una gestione che è di una visione diciamo complessiva cioè di una specie di ruolo di direttore di orchestra che permetta appunto di orchestrare al meglio le varie specialità in parte interna in parte esterne all'azienda e di anche di impostare una gestione che deve per forza essere semplificata per la normalità quindi si avrà un primo livello semplice adatto al manutentore generico per il quotidiano e un secondo livello di approfondimento in cui entrare solo quando è veramente necessario per approfondimenti o malfunzionamenti particolari.